Questa esperienza mi ha arricchito molto, io mi piace la musica, non sono stato mai musicista, io quello che ho imparato ho imparato da solo in questo periodo di mia detenzione e ho visto che la musica non mi fanno uscire, allora io evado con la musica, insomma mi fa evadere, una bella sensazione, quando ho letto che c'era questa nuova esperienza dell'orchestra in opera, qua mi sono buttato a di quello che so fare, insomma cerco di apprendere, ci sono ragazzi qua che sono bravi a suonare, io non sono nessuno per suonare, però diciamo che mi passo il tempo, mi piace moltissimo, insomma, che so io, Celentano, mi piace questi nostri autori, Lucio Battisti, insomma, questi musici degli anni 80, anni, non leggo la musica, leggo se mi viene messo uno spartito così, con degli accordi dove, se c'è uno spartito così, con gli accordi sulle parole, ecco, ma se mi viene dato un qualche cosa in questa maniera, cioè comunque quel pentagramma, non leggo niente, ecco. E' importante suonare.